Il 5 maggio scorso, un milione di docenti, studenti e famiglie sono scesi in piazza, in uno sciopero unitario di proporzioni mai viste prima. Noi del Movimento 5 Stelle siamo stati al loro fianco, non solo il 5 maggio, in ogni mobilitazione abbiamo iniziato a conquistarci la loro fiducia, e gli studenti, i docenti e le famiglie hanno capito finalmente che siamo noi, i depositari di quei valori, di onestà, democrazia, civiltà e obaglianza che il marcio partito democratico non potrà mai più interiare. Questa speranza e questa fiducia staranno la base da qui ripartire per far rinascere il nostro paese. Grazie. 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 Grazie.